Grazie a tutti Tu non ci crederai, ora è qui perché Con la magia lei riuscirà a difendere i sogni degli uomini Piccola è, ma un cuore d'amore lei ha Ma che melodia, tra note e magia La vita di rosa brillerà Il tuo cuore poi con l'armonia Tutti i sogni salverà L'amore è già qui La tua nemica sai, vuole vincere D'astuzia giocherà Senza regole Senza regole Con la magia lei proverà A rubare i sogni degli uomini Ma non lo sa che la bontà vincerà Ma che melodia, tra note e magia La vita di rosa splenderà Il tuo cuore poi con l'armonia Tutti i sogni salverà Nel segno della magia Il sole risplenderà Il sole risplenderà Il sogno così vivrà L'amore è già qui Perché credo in te Se io credo in te Da rimani qui Ma che melodia, tra note e magia Risplenderà Ma che melodia, tra note e magia 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 LUNA PRINCIPESSA ARGENTATA Un magico sorriso che porta ovunque serenità Ma purtroppo c'è qualcosa proprio che non va Un capriccio dopo l'altro fai Sei la bimba più viziata dell'umanità E per questo passerai dei guai Sono l'unico tesi e non puoi Trasformare poi tutto ciò Spesso ti domandi sentimentare Grandi vuol dire fare quello che vuoi Quindi senza sosta tu cerchi la risposta Così come facciamo anche noi LUNA PRINCIPESSA ARGENTATA Oggi il sole splende di più È il tuo compleanno che festa ti faranno Perché la festeggiata stai tu LUNA PRINCIPESSA ARGENTATA Ora hai dodici anni lo sai Corri giù a danzare e non farti più aspettare La sala è più cremita che mai Ma purtroppo c'è qualcosa proprio che non va Un capriccio dopo l'altro fai Sei la bimba più viziata dell'umanità E per questo passerai dei guai Solo l'incantesimo può Trasformare poi tutto ciò Spesso ti domandi sentimentare Grandi vuol dire fare quello che vuoi Quindi senza sosta tu cerchi la risposta Così come facciamo anche noi LUNA PRINCIPESSA ARGENTATA Guarda quel ragazzo laggiù Biondo come il crano ti si avvicina piano E puoi vedere che ha gli occhi blu LUNA PRINCIPESSA ARGENTATA Puoi specchiarti negli occhi suoi Balli e ti domandi sentimentare Grandi vuol dire fare quello che vuoi E quindi senza sosta tu cerchi la risposta Così come facciamo anche LUNA PRINCIPESSA ARGENTATA LUNA PRINCIPESSA ARGENTATA LUNA PRINCIPESSA ARGENTATA Una principessa argentata Per Neri per Neri ci sono molti misteri Per Neri per Neri ci sono molti misteri Neri tu l'India non scorderai Ma in Inghilterra risiedi Ma in Inghilterra risiedi ormai Anche se il cuore ti piange sai Non dir sempre no Dai sorridi un po' Per Neri per Neri ci sono molti misteri Per Neri per Neri ci sono molti misteri Ti manca tanto la libertà Ti manca tanto la libertà Che avevi in India ma non hai qua Solo la tua gran curiosità Ti riporterà La felicità La felicità E per Neri per Neri ci sono molti Qui c'è un giardino Meri, Meri Che è pieno di misteri Meri Misteri per i giornieri Meri Di passati pensieri Si c'è un giardino Meri, Meri Gremito di misteri Meri E quel che è stato ieri Meri Meri Prima o poi cambierà Per Neri per Neri ci sono molti misteri A chi ti dice io non lo so Rispondi sempre vabbè però Mentire a te certo non si può E la verità Ma presto fiorerà Qui c'è un giardino Meri, Meri Che è pieno di misteri Meri Misteri prigionieri Meri Di passati pensieri Meri Si c'è un giardino Meri 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 Gremito di misteri Meri E quel che è stato ieri Meri Prima o poi cambierà Prima o poi cambierà Guarda sempre più in là Cerca la verità E vedrai che poi sarai Un'altra Meri Meri Tutto quel che non va Prima o poi cambierà Tutto quel che non va E vedrai che poi sarai Un'altra Meri Tutto quel che non va Prima o poi cambierà Guarda sempre più in là Cerca la verità E vedrai che poi sarai Un'altra Meri Che allegria Che simpatia Respiri sempre a Beverly Hills Che pazzie Che stramberia Respiri sempre a Beverly Hills Che euforia Che lecidria Respiri sempre a Beverly Hills Che follie Che stramberie Respiri sempre a Beverly Hills Le case sono enormi Ti perderai Nell'auto Una piscina Troverai Per questo a bocca aperta Tu resterai Resterai Siamo quelli di Beverly Hills Noi siamo quelli di Beverly Hills Noi siamo quelli di Beverly Hills Bellissimi scantonati Siamo sempre quelli Siamo quelli di Beverly Hills Che uforia Che simpatia Respiri sempre a Beverly Hills Che follie Che stramberie Respiri sempre a Beverly Hills Le case Le case sono enormi Ti perderai Nell'auto Una piscina Troverai Per questo a bocca aperta Tu resterai Resterai Siamo quelli di Beverly Hills Siamo quelli di Beverly Hills Noi siamo quelli di Beverly Hills Alle campagne serati Come tutti a Beverly Hills Siamo quelli di Beverly Hills Noi siamo quelli di Beverly Hills Bellissimi scantonati Siamo sempre quelli Siamo sempre quelli Siamo quelli di Beverly Hills Noi siamo quelli di Beverly Hills Bellissimi scantonati Siamo sempre quelli Siamo quelli di Beverly Hills mi sono dimenticato una è però lo scrivere beh è un peluche che quel paptamon è un peluche felix no 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 la fine è la stanza di tahiki con suo digimon e basta tutto il resto è solo contorno buon pomeriggio signore abbiamo iniziato un po tanti che ho aspettato un po che lascia un po di gente in questa live particolare ciao felix ciao molly ciao ala ciao nicola ciao sisa italica 96 e ciao a chi sta lurcherando come va signori in questo 9 novembre dove vi porto un gioco nuovo porto un gioco nuovo quest'anno non si vede l'albero ragazzi già è fatto il giro e monitor un minuto già è fatto però se io devo metterlo in quadratura come gli altri anni secondo modo se è andato letteralmente qua quindi non posso rimetto il monito qua che fastidio quella f minuscola è per tutto tutto maiuscolo mettitelo in basso ho cercato in tutti i modi di far entrare l'albero in quadratura ragazzi però non ce la fa non ce la non ce la faccio ho provato a spostare la webcam qua viene una merda niente pazienza niente albero non lo vedrete questa sposte l'oletto e dormi a terra no semplicemente potrei semplicemente spostare il monito così e potrei potrebbe pure andar bene effettivamente però è tutto storto è tutto storto io ti giuro c'è postazione nuova puli braccio nuovo però lasciamolo qua si vede un po tanto non è nemmeno acceso perché come state signori come va come sta andando questo mercoledì di cui io sinceramente ho pensato una cosa no ieri ho seguito quello che mi ha detto nicole alliesa cioè mi hanno detto copredite sti cazzo di buoni di poi spendere eccetera eccetera l'ho fatto con i buoni dei rewards ho riscattato 20 euro di buoni amazon e ho preso 25 euro di ricarica per nintendo switch quindi ho comprato takono tazujin ritmi festival sono contento si sa meno ti togli un poco di stress che c'è addosso ho comprato takono tazujin ritmi festival state calmo io non do un cazzo a nessuno va bene quelli vengono con me a casa nuova e te li metterò dietro nell'inquadratura va bene sono contento che le trovate quindi takono tazujin oggi questa è una live particolare in quanto come l'ho scritto su telegram non è registrata cioè non c'è in past già da adesso non viene registrato in pasta se andate a vedere non c'è il pass broadcast non un po di stress nel problema vicino eppure scusami tanto è su una settimana senza live va bene va bene va bene quindi questa live non è già registrata me la sto registrando la sto registrando io per i fatti miei quindi proverò a caricarla su youtube e se non la straica la troverete la se mi straica la live su youtube ciccia questa live la state vedendo poi ce l'ho io nel mio archivio di file sul pc ma non esisterà da nessuna parte devo fare così perché sapete come te li connotati oggi ne tutto tutte musiche con copyright ovviamente però cazzo è un gioco tra l'altro si sa poi quando tu hai tempo quando ci sarai sul disco ti farò sentire tutte e 592 canzoni teico notato non c'è poter risalare al lavoro grazie di dio molte grazie ha fatto il signore per avermi mandato al lavoro quindi la lei non è non è registrato possono dire tutto quel cazzo che vogliamo no fare le parole con line vendettore se non c'è un po di teico notato ci vi faccio vedere è uguale all'altro ragazzi però ci sono canzoni nuove o di vecchie se c'è la canzone del gabibbo non vale che quale delle tante canzoni del gabibbo ce ne sono credo 80 canzoni del gabibbo si sa questo verrà screenshotato nicola però posso fare la clip su questo fa fatto la liberate i cani va bene li e ciao simon ho fatto l'attipo nicola questa verrà tenuta lì per te che è scritto forza napoli e adesso facciamo un po di roba nel giro la ruota abbiamo a giocare a teico io oggi ho fido di abbe di natale fatto questo fatto questo qua fatto quello del quello grande in ingresso non ne possono più poveretti sono distrutti probabilmente questo dentro l'ultima l'ultima stagione che fanno questi due alberi perché poi a casa nuova ne prendo di prendo nuovi adesso si va per il presepe devo sistemare un prodotto per fare presepe e poi prima io prima che parto per milano voglio prima che parto per milano voglio fare il presepe vediamo se riuscirò a darmi questa scadenza ma milano mai si avvicina milano in combi milano me lo sento qua nessun corso mi sento il duomo che mi alita sul collo quindi devo finire di preparare tutte le cose dopo stanno dopo portando la switch tra l'altro pure dovevo scaricarmi dei film sull'ipad tipo da replay o da prime perché 21 ore di treno dovevo passare il tempo milano infame si vedo l'ora di vederla finalmente per la prima volta a milano tu dici perché da questa volta non l'ho visto non abbiamo visto un cazzo a parte la fiera basta piace ficcare vedi sì 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 scaricare nel senso che come fai su prime riscarichi e te li guardi dopo o sul sempre sul dispositivo dove le hai scaricate, fino a ieri sembra che l'ho vista sta cosa, mi sembra di sì, perché c'era download, devo controllare perfettamente, dovrebbe esserci, come su Prime ripeto, mi scarico qualche serie, qualche serie da passare quelle 21 ore, che a quanto ho capito sul treno non c'è nemmeno il tavoletto dove mettermi a fare il cuciverba, io mi ammazzo, io il cuciverba me lo porto, però devo vedere come cazzo fa, e poi comunque i giochi con la switch ce li ho, mi porto la switch, devo portare la switch, l'iPad, che non ne vuole più, poveretto, quindi se me lo inculano, non mi fanno un favore, intanto non vale un cazzo, e la switch, allora, andiamo a fare un po' di roba ragazzi, e poi andiamo a giocare, che voi state aspettando questo, oggi non lo so, sto parlando a cazzo, non so di cose, Mollica e Felix, siete i due simpatici concorrenti che si immoleranno per la truffa dei punti, sono servite, Alla, ma io me lo porto Alan, il problema è, cioè riesco a farli, quello è il problema, meno male che c'è il Wi-Fi, altrimenti avresti giocato solo Overwatch su Switch, ah che non c'è il Wi-Fi, non col cazzo che avrei giocato Overwatch, tra l'altro Overwatch con l'altro account, non è nemmeno con l'account mio, Mista, scritto, non è collegato col mio account, va bene, allora, Mollica, Felix ed Alan, i tre fortunati di oggi, iniziamo con Mollica, e vediamo un pochettino, il primo giro di oggi, cosa gli porta, Autosmuff Autosmuff Sì, grazie, io, io, a me dispiace, cioè, io giro la ruota e cazzo, cioè, c'è, non gira e se viene quel, a me dispiace, riesce sempre la frutta, io non ce l'ho dobbio fare niente, grazie Mollica, Cioè io, io prendo un tasto, gira la ruota e la la, e poi si fa, pensa a lei, vediamo cosa succede con Felix, speriamo di qualcosa di bello, Felix, guarda, te la giro con... farmi vedere con cosa ti ha al giro ti ha al giro con questo ragazzi io non lo farò io non ho parole ragazzi io ho 2 su 2 non c'è 2 senza 3 per Alan te lo giro con il jingle originale che secondo me qui partono le denunce te lo giro con il jingle originale guarda è riuscita la dieta facciamo filotto formaggio 3000 va bene e oggi la ruota ha dispensato la bellezza di 4000 punti tuffatore in alto adesso stai calmo io ho fatto vedere come funziona la ruota ok cioè l'unica cosa che faccio è premere un tasto qualsiasi della tastiera e parte la ruota io poi questo fa e questo esce ora ti faccio vedere che se gli giro se faccio un giro totalmente a caso fa vedere che non è una truffa facciamo un quarto giro per nessuno perfetto io direi basta va bene basta ok basta allora eh Gerla arrivi qua eh è uscita la truffa di nuovo quindi qua su 4 giri sono uscite 3 truffe 3 frutte ora io metto la frutta a 10.000 va bene metto la frutta a 10.000 e i jolly 100.000 va bene facciamo così siete tutti contenti la frutta a 100.000 come stai Gerla chiudiamo qua sta merda di ruota è uscita la frutta io non ho parole eh dov'è qua questo qua si sposta i punti belli do fino all'aio ovviamente fatemi settare tutto switch sull'HTMI e andiamo in schermata di gioco ok signori è arrivato il momento del simpatico giochettino Teiko Notazujin da Ritmi Festival come stai Gerla come va Nicola col cazzo che io metto la ruota la ruota è truffata la ruota è truffata la ruota è truccata meglio un freddo culo che un gelato in culo vabbè grazie no ho fatto una domanda lì è già ho fatto una domanda all'oraculo è uscita è uscita meglio effetto di culo che un gelato nel culo eh siamo passati a farlo sotto la luce che sto uscendo buona uscita ti perdo una live epica per i motivi sbagliati che non potrei mai recuperare però vabbè ho fatto una domanda la ruota è truccata punto interrogativo siete sempre siete sempre non siete mai calmi voi allora ragazzi ci ho giocato un poco ieri ci sono poche novità questa è una live piena di copyright non posso tenerla allora un giocatore si gioca in due quindi questo sarà bello da fare a Milano infatti l'ho detto a Dallas questo Milano ci divertiamo ricreazione raccomandata no tanto parla allora signori partiamo vediamo un po' cosa fare allora eh 592 canzone io avevo scaricato un po' ieri quindi vediamo quale facciamo no devi cliccare e allora aspetta un minuto spaccami la da Alan non c'è un modo di vedere dove sono quelle scaricate però andiamo giù 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 ecco qua l'ho fatta questa ok facciamo una cosa andiamo in libreria una cosa alla volta aspettate no non c'è sono tutte canzone giatte facciamo un po' di roba base per ora e direi direzione con questa con questa partiamo ciao jump è un po' incasinato il gioco sentendo tutto questo che parla qui ok partiamo è vabbè molly è solo giappo è ovvio la cosa però non è tutto così io mi confondo questo è bello con tamburo costa 100 euro non riesco a fare il tamburo yes 100 euro di plastica sì combo unica attenzione è andata malaccio sacco di livello e prendere ora sto sbaccando cose con molto fei vinte e dei saluti ok andiamo avanti c'è il maire l'accademia sì c'era tutte le sigle jump e c'erano il maire l'accademia però facciamo quello senza il passo poi andiamo sul passo dove ci sono tutte le robe ovviamente ragazzi diciamo non può mancare butterfly la conoscete questo mai direi di sì dopo anni guardate qua guardate qua il problema è il suo suonare il problema è non è il problema devo fare tutto nel punto giusto io quanto non ce l'ho fatta ce l'ho fatta non ce l'ho fatta lo fanno lì ma si stanca pure col pad va bene ci sono dei vestiti l'ho visto l'ho visto ah sta bombezza io lo dice a tua sorella si sa ok non per segnare jump e questo è stato fatto ora vediamo cosa c'è qua raga dai dai eh di lei eh eh non sei l'ormuno incredibile impressionante eh forza resta l'ansolo l'ho c'è un paio maio ciao Non, non, non. Non lo fai mai parecchio Non lo fai 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 Quello ha fatto No un'estrema sai come Io offendo le sorelle di chi voglio Estrema è molto difficile Te lo farò vedere com'è Ma non è fattibile mai Per me non è fattibile Abbiamo fatto Sailor Moon Vieni oggi tutto dietro l'alto ragazzi Hanno dietro l'alto la presa non l'abbia Questa è la veloce Questa è la veloce Questa è la veloce Ho cercato un colpo Sto facendo male le mani Sbaccio sulla tecce Zucca, cocotella Questa è la veloce Mi piace ricola ti faccio sentire che musica che cosa hanno messo raggiunto il limite dei punti take o torno a un mio sito invece della mappa delle ricompense a veramente completo momento cinque persone anime diverse come data ico torna torna qua nel negozio devo andare detto che ho raggiunto limiti cosa devo fare quando completi di quanti completi divertenti sbloccare competere l'una grande guerra dei tamburi non so parlare puoi spendere monete ok devo spendere le monete per forza su queste cose vabbè penso di sì però non voglio questo non volevo questo ho speso vediamo cosa vogliono queste ritorniamo al taiko ma infatti molly questo qua ce l'ha il tamburo questo c'è il tamburo che compreso con il gioco era 100 euro vedi gioco controllo il tamburo ok non è la stessa cosa che quello che dici tu grande però si ah me l'ha messa qua quello che ho scaricato dal pass io qui aspettavo cigatto cigatto non c'è la facciamo questo è molto bello col tamburo non ci spendo 100 euro ma costa di meno adesso comprarlo a parte ma non ce li ho cioè aspetta sbagliato non c'è la facciamo due colpi questa è relativamente semplice tanto dura ce l'ho fatta è molto bella la segra di Conan Gerla sei anche troppo assinato di Conan campionato del Taiko e fare pochi campionati che vorrei almeno provare si si ho raggiunto di nuovo il limite eh che palle non ce l'ho voglia che bello che hai finito a 110 hai visto? sono un professionista del Taiko Nicola allora non mi interessa i punti ora arriva questa note divergenti in difficile non voglio sapere cosa si io ne ho paura ma donna non mi interessa ho Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... 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 a tutti. e... a tutti. 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 e... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. e... a tutti. a tutti. che... a tutti. e... e... a tutti. a tutti. a tutti. a... a... e... e... a tutti. a tutti. a... 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 e... a... perché... e... non... e... e... a... a... ... a... ... ... a... e... a... ... 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 ...... ...... ...... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... livell'acquatico di merda si cambia di repentino tutta tutta la notizia finisce super mario l'ultima 2 facciamo zelta e poi facciamo una far vedere come è difficile e chiudiamo la notizia finisce 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 Buongiorno a tutti se c'è qualcuno che va via ciao ragazzi alla prossima scusa abbiamo visto chi ero perdonate non riesco non posso staccare oh fatto schifo fatto ente schifo ciao questo c'è lì che oltre ma alle 5 comunque non è andata malissimo quella che ho rifatto la fa un culo di forza e poi se ci sono il pomeriggio questo anche se poi ti sento io non mi sentito l'ultima torniamo indietro allora torniamo indietro aspetta qual'era quella non è questa quindi no felix no perché questa è we are quindi non ho fatto questa scusa io non mi intendo le sigla di One Piece che non lo seguo One Piece è questa ok la facciamo dai ok io non parlo perché non conosco non seguo le sigla di One Piece cioè non le conosco facciamolo e poi facciamo l'ultimo dovrebbe essere la prima forza vero ciao 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 finito in realtà si ha migliorato i trucconto di ieri l'ho fatto dopo l'ho provato ieri così no allora ragazzi facciamo l'ultima far vedere quella difficile dovete dirmi cosa volete di poco ma ce ne sono un bel po' però io non le conosco non so un po' che sia best wishes sarà un film anche tecnici sono un bel po' di sicure facciamo con andai sarà molto difficile e ve la faccio in difficile ragazzi non in estrema estrema è non rifai quella di digimon no no sbaglio digimon la conosco anche con la faccio difficile no estrema ragazzi estrema è veramente estrema già sto sbagliando adesso no Grazie per la visione! Come fai a cliccare i tasti così? Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! Non te lo permette minimamente, nemmeno nella fascia del completo. Non te lo permette né il Joy-Con né il coso. È impossibile in questa modalità. Oggi il 58% quello! Cioè, avete visto com'è? Sono un giocatore difficile, no? Sono un giocatore perso. Questa è la difficile. Pensa all'estrema! Pensa all'estrema! Pensate all'estrema! Va bene, adesso... Sì, siamo fuori tempo! Oddio ragazzi! Io spero che comunque voi vi siete divertiti. Il tamburo non penso mai di comprarlo perché... Sicuramente sono veramente soldi persi. Nel senso che non ho quei soldi da investire. Alexa, spegni Nintendo Switch. Cioè, mai direi mai. Mettere ne trovo uno a un basso prezzo. Lo potrei pure comprare. Io personalmente mi sono divertito in questa live. E spero, ripeto, vi siete divertiti anche voi. Mi spiace che non si possa recuperare l'impasto. Ma per ovvi motivi. Ovviamente. Perché sarebbe... Mi bannerebbero totalmente. Infatti, ripeto, non l'ho nemmeno registrata. E vedo che la cosa che inserisci le categorie e Twitch non la registra, funziona. Perché ho inserito come escludi dal VOD e non me l'ha registrata. Quindi almeno evito di disattivare e di continuare l'opzione del Pass Broadcast. Che ho portato proprio in modo... Ho registrato tutto io, se volete fare. Io ce l'ho. Lo do gratis, Nicola. Io sto registrando con OBS. Sto facendo la live con OBS e sto avviando la registrazione con OBS. Quindi, ciccia. Ripeto, vedo di metterla su YouTube. e se non viene buttata giù ve la trovate lì. E allora, fatemi vedere un po'... Troppa gente che fa colto fuori. Sigla finale. Comunque la dicevo lì, era proprio un ricordo che era la quindicesima. Ah, ok, quella che dicevi tu era un'altra. Quindi che esiste. Grazie su quale schifo, quale è compato. Signori, sigla finale. E allora, signori. Oggi è mercoledì. Quindi, domani c'è la pausa. Domani non sono in live. Perché lo sapete, è il motivo per cui mai giovedì non faccio live. Quindi vi aspetto direttamente venerdì con Super Mario Maker 2. Poi sarà l'ultima live per... Poi torno sabato successivo, probabilmente. Farò due live sabato e domenica. Visto che trovo da volo poi dal lunedì a venerdì. Poi c'è il lato lunedì a martedì e poi si parte per Milano. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo e non vedo l'ora di partire. Detto questo, buona sera da tutti. Buon giovedì a tutti per domani. Noi ci vediamo venerdì al 370 con Super Mario Maker 2. Mi raccomando, signori, restate sani. No, quello la dice il menù. Ciao.